Si sentono sconfitte le sigle sindacali terramane di Cigelle e Cisle Will nell'annunciare la morte definitiva dell'ATR Gruppo di Colonnella. Dal 27 giugno scorso il licenziamento ha avuto effetto e i 63 tra lavoratrici e lavoratori dell'azienda che si occupa di compositi in carbonio hanno cessato definitivamente il loro rapporto di lavoro dopo anni di tribolazioni. Quali? Due fallimenti fronteggiati da una cassa integrazione, vitale da una parte per la sopravvivenza delle maestranze e allo stesso tempo necessaria per prendere tempo e tentare una via alternativa attraverso l'attivazione di politiche industriali e sinergie più volte sollecitate che purtroppo, secondo i sindacati, non c'è mai stata realmente. In una nota le segreterie provinciali di Cigelle e Cisle Will definiscono scellerate le ultime gestioni imprenditoriali dell'ATR che hanno portato ai fallimenti, tra l'altro l'unico caso in Italia in cui il secondo fallimento si è aperto prima che si concludesse il primo. Dagli scioperi, presidi, assemblee, cortei, sit-in, tavoli istituzionali a tutti i livelli, i dipendenti hanno combattuto strenuamente e più volte urlato quanto sarebbe stato vitale per il territorio e l'intera vallata della vibrata il rilancio dell'ATR. Con la chiusura definitiva di questa azienda, che fu prestigiosa, concludono le sigle sindacali terramane, non muore solo un marchio storico ed illustro per l'intero Abruzzo, ma muore definitivamente la speranza che in questo paese si possa vivere lavorando. Sulla vertenza ATR di Colonnella cala così il sipario per sempre.